...al decimo. Caso vince un contrasto appena fuori la propria area. Avanza tranquillo, palla al piede per tutto il campo indisturbato, poi allunga Beccalossi. Pochi passi e grambotta a mezz'altezza che fa secco il rientrante portiere ascolano pubblici. Chiaro che a questo punto tutti si aspettano che Lascoli esca dal torpore.